In Florenza Giulia ci vuole un candidato del PD per le prossime regionali dell'anno prossimo, l'Anti Fedriga, ha un nome in mente? No, 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 nomi in mente, nota la mia amicizia fraterna, prima ancora che politica, con Francesco Russo che ha dimostrato una generosità personale e politica straordinaria nel recente passato, ma credo che il partito locale insieme alla eventuale coalizione che bisognerà provare a costruire da qui alla primavera quando si terranno le amministrative dovrà scegliere la donna o l'uomo più competitivo proponendo alle persone una diversa idea di Friuli Venezia Giulia meno chiusa e autoreferenziale, più europea, più aperta essendo questo per esempio il luogo da me tanto amato del porto più importante del paese di uno dei porti più importanti d'Europa e quindi per sua storia ma anche per sua logistica infrastrutturale uno dei luoghi che può essere più internazionale di tutto il nord-est l'idea di un Friuli Venezia Giulia di progresso, aperto, di sviluppo capace di affrontare la sfida ambientale senza lasciare indietro nessuno e dove le questioni del lavoro e per il lavoro abbiano sempre e comunque la priorità anche rispetto ad alcuni approcci un po' ideologici che purtroppo le regioni governate dalla destra hanno sempre anche su questi temi